Arrivano i droni nella centrale di Cività Vecchia per supportare le attività di esercizio, manutenzione e protezione dell'impianto grazie a soluzioni sviluppate da due start-up israeliane Convexum e Percepto. Il progetto pilota parte dalla centrale intorno al Dalliga Nord che sempre più è il cuore pulsante dell'innovazione degli impianti di generazione del gruppo Enel. Sono due sistemi che si inquadrano nel piano di digitalizzazione dei nostri impianti che ha come progetto pilota già cominciato due anni fa l'impianto di Cività Vecchia per quello che riguarda la filiera carbone. I vantaggi di questa tecnologia così come di tutta la tecnologia di robotica sono quelli di poter moltiplicare le migliorazioni, le ispezioni, le rilevazioni sui nostri impianti, molte volte sostituendo lavori che sarebbero pericolosi come ad esempio i lavori in altezza che adesso possono essere fatti da remoto con grande sicurezza. Questo progetto è un esempio concreto della collaborazione proficua di Enel con alcune tra le più interessanti startup a livello internazionale. Convexum ha sviluppato un sistema in grado di impedire il sorvolo dell'impianto da parte di eventuali droni non autorizzati, mentre Percepto ha sviluppato un drone capace di eseguire missioni di volo automatiche attraverso l'uso di sensori e di algoritmi di computer vision e di fornire supporto all'attività di ispezione dell'impianto. Abbiamo portato qui a Tore Valdaliga due tecnologie di due startup israeliane. È l'ennesima conferma che si possono trovare negli hub delle soluzioni concrete che migliorano l'efficienza, migliorano la capacità di contenere i costi, migliorano la capacità di gestire in maniera innovativa le nostre centrali, le nostre reti e tutto il nostro business. I monitoraggi che si possono fare dall'alto sono una grande opportunità che possono essere fatti sia con guida vedendo il drone, sia, e lo stiamo sperimentando con Enac, con guida da remoto. Quest'iniziativa presto sarà estesa a tutto il parco centrale del gruppo, sia in Italia che all'estero, che a nove era circa 80 impianti di generazione tradizionale. Il nostro obiettivo è quello di fare quello che noi chiamiamo lo scale up, quindi di portarli su tutti i nostri altri impianti.